Quella che sto per raccontarvi è un fatto ancora inspiegabile per la protagonista. È un racconto di un'iscritta che gentilmente ha deciso di condividere con noi la sua passata esperienza. Prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e condividerlo con i vostri amici. Mia nonna mi raccontò che da bambina mi regolò una bambola, una famosa bambola parlante. La desideravo tantissimo. Ma la cosa più strana fu che la notte parlava. Pensavo fosse un normale malfunzionamento. Un giorno lo disse mia nonna ed insieme ci regamo il negozio per segnalarne il guasto. La loro risposta fu che era tutto ok e che la bambola funzionava perfettamente. Ma la cosa più inquietante fu quando dissero che le batterie non erano ancora state messe. io non so se sia vero o meno. Ripeto, questa cosa mi è stata raccontata, ma ogni volta che mia madre e mia nonna me la raccontano, vedo la serietà e l'inquietudine nei loro occhi. A presto.